Ha preso il via questa mattina a Gallarate la consegna dei buoni spesa nel cortile di Palazzo Broletto. Il servizio, reso possibile grazie all'impegno di amministrazione comunale e protezione civile, darà un sostegno concreto a più di 500 cittadini. L'importo stanziato è un totale di 168 mila euro, stato stanziato dai servizi sociali del comune, per un totale di 522 beneficiari. La distribuzione inizia oggi, andrà avanti per ancora una settimana, e molto importante, penso sia sottolineare come al solito, l'impegno dei volontari di protezione civile, che avranno un servizio di oltre 30 ore in totale, che per 4 volontari supera quindi le 120 ore di servizio. Sostanzialmente va a replicare in maniera diversa quello che è già stato fatto durante l'anno precedente, la distribuzione dei buoni alimentari durante il lockdown è stato fatto inizialmente porta a porta, adesso invece che siamo in zona gialla è possibile farlo all'interno del Palazzo del Broletto.